Anche Di Gennaro, così come Cone, Sepe e Barillà, si allontana dal Pescara, l'ex portiere del Cittadella, infatti vicinissimo allo Spezia che potrebbe così soffiarlo, ai Biancazzurri. Per la porta al momento c'è solo Simone Aresti, ma si seguono le piste di Tozzo e Donnarumma. Non è da escludere però che la società decida di dare fiducia all'ex Savonese, affidandosi poi per il ruolo di secondo ad un giovane. Ma nel mirino del Pescara ci sono anche due terzini e due laterali di difesa, oltre ad un centrocampista ed una punta. Emanuele Pesoli è intanto ufficialmente Biancazzurro e lunedì raggiungerà il ritiro di Pizzo Ferrato. Il Pescara per il ruolo di laterale pensa da Chong della Fiorentina e Zampano, ex Juve Stabia, ma di proprietà del Verona. Per rinforzare invece il centrocampo, i nomi sul taccuino dei direttori Repetto e Pavone sono Pire, Schiavone e Porcari. Si pensa anche al clamoroso ritorno di Dettori. Ma la dirigenza non ha fretta anche perché aspetta di sentire il tecnico Marco Baroni sui giocatori già a disposizione. Per l'attacco, per esempio, con Cutolo, Sforzini, Caprari, Politano e Maniero c'è già affollamento. Qualcuno però partirà. Intanto nella prima giornata di campagna abbonamenti sono state sottoscritte 155 tessere. Giannascoli, è prematuro parlare di obiettivi, però dopo due stagioni sicuramente deludenti sul piano dei risultati, insomma la voglia è quella di regalare ai tifosi biancazzurri delle soddisfazioni? Ma questa assolutamente sì, la voglia c'è tutta e c'è anche tanto impegno. L'anno scorso abbiamo fatto delle scelte di puntare a giocatori affermati, abbiamo costruito una squadra molto forte sulla carta. Quest'anno vogliamo costruire una squadra che sia il giusto mix tra qualche giocatore esperto e qualche giovane che ha tanta tanta voglia di emergere perché questa è la legge della Serie B e noi dobbiamo adeguarci ma sempre senza tralasciare quell'obiettivo che uno ha comunque sempre in mente di raggiungere nel più breve tempo possibile. A Lanciano nelle prossime ore ci potrebbe essere l'annuncio del ritorno di Leonardo Gatto. Dopo paghera riscattato nelle scorse settimane gli arrivi di ieri di Agazzi e Conti, la squadra rossonera inizia a prendere già forma. Lunedì 14 luglio prenderà il via in sede a Lanciano la prima parte del ritiro e per quel giorno potrebbe esserci anche l'annuncio ufficiale di Roberto D'Aversa come allenatore. La società rossonera sta lavorando anche ad altri arrivi, già ufficializzate le amichevoli con l'Avellino al Biondi e con la Salernitana ad Eboli.